questa depressa mi urtava i nervi l'ho fatto ho fatto le foto queste sono le parole contenute nei messaggi vocali che il sedicennio reo confesso aveva inviato una sua amica a coetanea come se parlasse di una delle tante attività di fine settimana e non di un efferrato delitto appena compiuto ai danni di una ragazzina che lo credeva suo amico tanto da aver accettato il suo inviso una condotta che evidenzia mancanza di scrupoli di freni inibitori e anche di motivazioni così come emerge dal tenore dei messaggi vocali inviati ad una amica subito dopo i fatti scrive lo stesso il gip del tribunale per i minori di bologna descrivendo il comportamento del sedicennio nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono stati due messaggi che hanno incastrato il ragazzo che pure successivamente ha cercato di depistare le indagini ripulendo i suoi abiti e cancellando poi il chat come ricostruito dagli stessi inquirenti infatti è stata proprio l'amica e destinataria dei messaggi a rivelare ai carabinieri di quelli strani vocali a cui lei aveva dato poca importanza non capendo immediatamente la gravità dell'accaduto forse credeva una bravata un dispetto ma quando la notizia della scomparsa di chiara si è diffusa in paese ha intuito ha capito e si è confidata con i genitori e con loro si è presentata ai carabinieri in questi vocali lui continuava dicendo l'ho presa a calci in testa mi sono rotto forse quasi un piede ho fatto delle foto poi riferiva ancora no ha detto che l'ha colpita ripetutamente con coltellate al collo al petto e alla gola e infine si è accanito su di lei anche con calci questi sono i messaggi vocali del tenore in equivoco scrive il giudice ma altri messaggi erano già stati inviati precedentemente anche a degli amici nel quale aveva confessato di voler ammazzare una ragazza aveva proprio scritto così a un'altra persona domenica farò fuori una ragazza già stavo per perdere il controllo allora ho dovuto fare un patto con lui e almeno ho un po colmato la sua sete anche in quel caso nessuno lo aveva preso sul serio pensavano a spacconate ma invece lui secondo gli inquirenti aveva già programmato tutto aveva invitato chiara l'aveva anche abbracciato come si vede nel video degli ultimi istanti insieme ma lui si era già portato dietro il coltello non aggiungo altro